Un'impresa grandissima, sicuramente tutto il lavoro che abbiamo fatto finora, naturalmente ho avuto possibilità di fare tantissimi giorni di lavoro, sempre come dice il mio aiuto allenatore dobbiamo veramente ringraziare a tutto il movimento, alla federazione che ci ha permesso di fare le partite e io giuro che oggi dopo allenamento di stamattina mi hanno dato una carica e fiducia pazzesca e l'hanno dimostrato, queste ragazze devono continuare, queste ragazze gli abbiamo messo un po' di mentalità quella forte, ecco io sono contentissima e sicuramente il lavoro ti dà le soddisfazioni è un'impresa ma è solo il primo passo, domani c'è la Nord Macedonia domani ora arriviamo là e dimentichiamo tutto, pensiamo domani e cerchiamo di andare passo dopo passo sperando sicuramente positivo vincere la prima partita contro la Polonia che è una delle favorite ma non dobbiamo ora rilassarsi perché poi si può fare qualcosa di brutto con qualche altra squadra io sono contentissima, brava Giulia, oggi mi sei piaciuta, posso dirlo apertamente, ok? devi sognare, posso dire anche questo, vi saluto tutti, sono troppo felice, troppo felice Giulia Fabo, un esordio come meglio non si poteva? sì, la partita è stata molto combattuta però siamo molto felici perché abbiamo lavorato tanto e ci siamo allenate duramente e alla fine abbiamo ottenuto il risultato che volevamo sì, mi sentivo carica e quindi ero pronta per affrontare questa partita magari in quel momento qualche parte si poteva, la balla si poteva e magari un po' di focus ma sono molte fanno, quindi era più alto, quindi magari concentrati e focus all'inizio in quel momento Grazie.